Orca boia! Attenzione a quella guardia! Cazzo di guardie! Poi le guardie non si fanno niente sulla... No, sulle fiamme non si fanno niente Sono guardie Io sono morto, ovviamente, stranamente Sono morto di nuovo sulle fiamme, cazzo! Ma che sfiga! Ce la fai senza... Aspetta che ti vengo a salvare In teoria ce la posso fare In teoria se li svegli alla guardia Oh yeah! Vai piano qua, Yota Mi sto curando Ok, questa guardia qua l'ho fatta fuori Dai siamo qua Io sono qua all'uscita Vai Yota Oh Ah, sta guarda comunque è la gallificia Attenzione Attenzione, no! Aspetta, fermi La... Sono cinquantamila guardie Ok Ok Vai piano di guardie Attenzione che ci sono anche dei cani in giro Attenzione agli Yota che dietro di te ci sono dei cani Oh Cazzo Di qua, di qua Cazzo, ho inseguito Ah, di qua si esce Dove c'è la cosa dei pompieri, cos'è? Oh Oh Cazzo 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 Ma come che non posso uscire io? Eh no, noi siamo sul canio, è niente giusto Cazzo 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 Stai sul canio? Ah ok Mamma mia Ci mancano sulle fiamme Cazzo No, abbiamo dei coin mist Cazzo 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 Eh, sono un... monete che abbiamo raccolto a sto punto Ma Non so se Cazzo Cazzo Beh Beh O forse era scritto coin mist zero, non so Cazzo 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 Ok, un attimo che ci sono eh Ok, prossima Eh sì L'ospedale Allora Ok sono tutti mezzi morti io di nuovo la talpa Hector? chi è Hector? no stava morendo la mia scimmia che bello ora è andato in ospedale ci sono le infermiere l'infermiere di Stalentil lesbian sport gym ma che cazzo non è? ci sono le infermiere lesbiche come c'è le chiavi di verde? comoda ah tipo per scassionare una porta roba del genere immagino no qua c'è un paziente morto è veramente quella di Stalentil allora si infatti su sto ospedale mi sembra leggermente dimenticato ma perché è buccio tutto? i guardi non l'hanno dimenticato non l'hanno dimenticato Grazie.